Tutto, Marco, grazie, grazie, grazie a Franco Lauro, anche il mondo di Twitter è d'accordo con Franco Lauro, Bruno Peres è il nome più gettonato, mi piace dire twittato, mi piace, anche se sono d'accordo con quello che è stato detto prima, qual è un'altra storia, come un'altra storia fa pochissimo, sarà il Milan, la Juventus, dobbiamo vedere ancora tantissimi gol, state con noi, stiamo in pubblicità un minuto, massimo due.